Qual è il programma politico di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e cosa proponete ai cittadini abruzzesi? Innanzitutto il programma è un programma vasto, incentrato sulla giustizia sociale e la giustizia ambientale. Proponiamo ai nostri cittadini una visione nuova, soprattutto per quanto riguarda la giustizia ambientale. Vediamo nei nostri giorni come il clima è cambiato e c'è una richiesta di introdurre novità proprio per combattere questo cambiamento climatico. Abbiamo un programma vasto per quanto riguarda il cambiamento climatico, abbiamo intenzione di iniziare ad introdurre delle novità, soprattutto incentrate sulle rinnovabili. Chiediamo alla cittadinanza di efficientare e di risparmiare a livello energetico, ma dobbiamo incentivare affinché questo possa avvenire con il supporto delle istituzioni. Da un punto di vista prettamente politico, oggi c'è questa presentazione dei candidati, ritardata di qualche giorno dopo un'iniziale esclusione del vostro movimento e poi l'accoglimento del ricorso. Sì, siamo molto contenti che la lista sia stata riammessa. Riteniamo che sia giusto che la cittadinanza abbia il diritto di votare come crede. È stato un errore formale, l'errore umano, ma siamo contenti di essere riusciti a sanarlo. Grazie. 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 Grazie.